48 intense ore di lavoro per gli studenti dell'Università di Berlino che durante lo scorso fine settimana hanno incontrato la cittadinanza gelese per la seconda volta dopo alcuni mesi, questa volta per illustrare i loro progetti utili al miglioramento della qualità della vita a Gela. Lavori frutto di uno studio approfondito sul campo effettuato nel corso della prima missione a ottobre. I giovani talenti provenienti da tutto il mondo hanno immediatamente fotografato la città e individuato eccellenze e criticità proponendo soluzioni innovative per il superamento delle stesse criticità. È uno studio approfondito da una università, quella di Berlino, l'Università Tecnica di Berlino, di fama mondiale, che decide di avviare dei master, dei corsi di specializzazione applicati sul territorio. Poco meno di un anno fa il gruppo di lavoro scende sul territorio, guarda le criticità, si confronta con tutti i portatori di interesse del territorio, cittadini inclusi, e dopo un anno prova a presentare in questo contesto, anche abbastanza accattivante, le soluzioni che non sono le soluzioni definitive, ma sono le soluzioni, i punti di partenza da cui interloquire per migliorare tutti gli aspetti critici della città di Gela, così come di ogni città. Architetto, quali sono le caratteristiche principali che sono emerse da questi progetti e come sono articolate queste giornate? Le caratteristiche hanno spaziato su temi rilevanti la città, proponendo soluzioni diversificate dall'energia alle piccole soluzioni che in qualche modo riguardano il quotidiano, l'agricoltura, soluzioni che riguardano l'intescambio di modalità di parcheggi, per esempio. E' un problema di proporre un'idea nuova di città, un'idea nuova di città che in qualche modo si raccorda con l'esistente, sulle potenzialità dell'esistente. Questo diventa un lavoro molto interessante se proviamo a mettere assieme questa grande capacità di ideazione, alla possibilità di intercettazione anche di risorse finanziarie legate alla nuova programmazione. Questa è un po' la sfida che sta lanciando anche l'amministrazione. Oggi la nuova programmazione impone temi nuovi, dall'innovazione agli investimenti intelligenti agli investimenti per l'inclusione. Questi tre grandi temi oggi sono presenti all'interno di questo lavoro. Li dobbiamo tradurre in azioni, in progetti che possano attrarre realmente risorse.